Qual è il mio posto? Ora che tutto è compiuto, che i proci sono stati scacciati e Penelope riposa sereno e ormai vecchia accanto a me, mentre Telemoco, mio figlio, è ormai un uomo pronto a condurre con saggezza il mio popolo. Sapete dirmi, voi, qual è il mio posto? A pensarci bene, per tutta la mia vita sono stato sempre un randaggio, uno straniero, un ospite. Nel viaggio, ignoto fra gente ignota, si impara in senso forte a essere nessuno. E adesso, che ho tutto il tempo davanti a me, ho quasi paura, perché in fondo l'avventura più rischiosa e difficile inizia adesso. Grazie. Applausi. 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 Applausi.